Uno scarico anomalo nelle condotte fognanti che affluiscono al depuratore, questo scarico è avvenuto tra la sera e la notte del 18 agosto e fino alle prime ore di ieri, giovedì 19, ha fatto scattare il divieto di bagnazione nell'area che si trova di fronte a Via Galilei e fino a 100 metri a sud del porto turistico di Pescara. Il sindaco Carlo Masci afferma che questo gesto sulle cui responsabilità sono in corso indagini ha reso necessario un'ordinanza di divieto temporaneo delle acque di bagnazione per circostanze eccezionali e quindi adesso gli esperti dell'ACA stanno effettuando le analisi dei campioni, controlli sugli scarichi industriali che affluiscono nel depuratore. Tutti gli aggiornamenti li trovate sul sito internet di Reteotto all'indirizzo telematico www.reteotto.it